cari amici di fede cultura ben trovati a questo nuovo appuntamento sul nostro canale youtube e siamo alla fine della settima domenica dopo pentecoste come viene chiamata nel calendario secondo la forma straordinaria del rito romano questa forma liturgica preziosi preziosissima che papa benedetto sedicesimo ha voluto difendere con il motu proprio sumorum pontificum e che purtroppo oggi viene vista particolarmente sotto assedio a causa della crisi modernista che sta imperversando in maniera veramente benefica veramente violenta se prendiamo insieme il messale festivo tradizionale sumorum pontificum che potete come sempre se non lo avete già fatto acquistare sul nostro sito www.fedecultura.com possiamo trovare il proprium della messa che abbiamo ascoltato quest'oggi questa domenica per leggere un po le letture in particolare il vangelo e cercare di ricavare qualche commento qualche riflessione utile per per crescere spiritualmente grazie a tutti grazie a tutti Il brano di Vangelo che la Chiesa ha proclamato Quest'oggi è un bellissimo brano tratto dal Vangelo secondo San Matteo al capitolo 7 Leggo dalla traduzione presente nel nostro messalino In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli Fate attenzione ai falsi profeti che vengono a voi sotto l'aspetto di pecore Ma che nell'intimo sono lupi rapaci Li riconoscerete dai loro frutti Forse qualcuno raccoglie l'uva dalle spine o il fico dai rovi Così ogni albero buono dà buoni frutti Mentre l'albero cattivo dà frutti cattivi Non può l'albero buono produrre frutti cattivi Né l'albero cattivo produrre frutti buoni Ogni albero che dà frutti cattivi sarà tagliato e gettato nel fuoco Dunque dai loro frutti li riconoscerete Non chiunque mi dirà Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli Ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli Questi entrerà nel regno dei cieli Nel brano di Vangelo proclamato quest'oggi Nostro Signore si rivolge, come abbiamo visto, in maniera particolare E anzitutto ai Suoi discepoli Cioè ai dodici apostoli Cioè ai sacerdoti e ai vescovi della Chiesa Coloro che devono pascere il regge E lo fa con un monito molto particolare Fate attenzione ai falsi profeti È interessante notare come il Signore non stia mettendo in guardia La Chiesa docente La sacra gerarchia della Chiesa Dai falsi maestri Cioè i falsi maestri sono coloro che interpretano in maniera errata la parola di Dio Diremmo oggi gli eresiarchi Coloro che fondano l'eresia No, qui Gesù sta mettendo in guardia la Chiesa docente dai falsi profeti Che sono una cosa diversa Cioè da coloro che dichiarano di parlare per conto di Dio Questo vuol dire in greco la parola profeta Dal greco profemi Cioè parlare al posto di qualcuno I profeti dichiarano di parlare per conto di Dio Ma i falsi profeti in realtà parlano e agiscono per conto di Satana Cioè dell'avversario di Dio Questa distinzione tra falsi maestri e falsi profeti è radicata nella stessa scrittura Infatti San Pietro bene distingue queste due categorie Nella sua prima lettera proprio all'inizio del secondo capitolo Dove leggiamo Vi furono però tra il popolo anche falsi profeti Come pure tra voi ci saranno dei falsi maestri I quali introdurranno sette di perdizione E rinnegheranno quel Signore che li ha riscattati Tirandosi addosso una pronta perdizione Ora all'epoca di Gesù sicuramente il pensiero Quando si parla di falsi profeti Come del resto anche di falsi maestri Doveva correre subito ai farisei Che sedevano sulla cattedra di Mosè Ma abusavano della legge consegnata a Israele da Dio sul Sinai Ma l'Evangelista Matteo che mentre metteva per iscritto queste parole Questo ricordo delle parole di Gesù che egli stesso aveva ascoltato dalla sua viva voce Sicuramente San Matteo aveva in mente ormai i tanti eresiarchi della sua epoca I tanti santoni che si erano insediati nella stessa Chiesa di Cristo E in particolare i capi delle varie chiese agnostiche Che si presentavano al popolo come cristiani Addirittura come autorità cristiane Eppure rinnegavano nelle parole e nelle opere Il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo San Pietro tra l'altro aveva fatto una esperienza diretta E tutta particolare di questa realtà Quando dovette confrontarsi con Simon Mago Il capostipite di tutte le sette agnostiche Come leggiamo negli Atti degli Apostoli Simon Mago non a caso si chiama Simone Proprio come il primo Papa Possiamo dire che Simon Mago sia stato a tutti gli effetti Il primo antipapa Ma tornando al bramo di Vangelo di oggi Possiamo notare con grande interesse Soprattutto per i tempi che stiamo vivendo oggi Che Gesù consegna alla Chiesa In maniera derivata Tramite gli Apostoli A tutti i credenti Un metodo Un metodo di discernimento Anzitutto Gesù ci dice Che i falsi profeti Vengono da noi vestiti con pelli di pecora Questa infatti è la traduzione corretta Sia dal greco sia dal latino Infatti se leggete nella parte latina Vedete che è scritto Attendite a falsis profetis Qui veni ad vos In vestimentis ovium Quindi sotto vesti Fatte di pecora Questa quindi espressione Serve a dirci Che i falsi profeti Sono soliti professare Semplicità Povertà Cordialità Mitezza Ma la Chiesa è chiamata A imparare Come Vedere oltre queste apparenze È chiamata A discernere Per capire cosa si nasconde Sotto queste vesti Se si nasconde anche un cuore di pecora Oppure Un cuore di Lupi rapaci Così li chiama Gesù Essi sono lupi rapaci E l'aggettivo Usato in greco Dall'evangelista San Matteo Che è Arpages Che San Girolamo traduce come rapace Indica in realtà Una doppia voracità C'è questa ambivalenza Indica sia la voracità Di colui che è violento Cioè proprio del lupo Che divora Le proprie prede Uccide e mangia Le carni Delle pecore Sia di colui che è avido Cioè la voracità di colui La rapacità di colui Che vuole derubare il prossimo Per arricchire se stesso Vediamo dunque Che Gesù ci mette anzitutto In guardia Su questa doppia finalità Delle opere E dei discorsi Dei falsi profeti Il falso profeta È colui Che vuole arricchire se stesso Attenzione Non solo di denaro E di beni terreni Ma anche E forse anzitutto Di vana gloria E poi Talvolta inconsciamente Forse spesso Il falso profeta È colui Che vuole uccidere l'anima Cioè Che vuole dannare Coloro che vengono ingannati Eppure la maggioranza Dei falsi profeti Non Conduce alla perdizione I poveri ingenui Che cascano Nelle sue trame In maniera conscia Spesso e volentieri Il falso profeta È convinto Di compiere il bene Ma questo Non lo giustifica Agli occhi di Dio Come fare Per vedere oltre Le vesti di pecora Che il falso profeta Indossa Gesù quindi Ci indica un metodo Ben preciso Un metodo Che all'insegna Della pazienza Perché Come l'albero Per produrre i frutti Non è immediato Non è immediata La maturazione Dei frutti Chi Ha Un piccolo O grande Appezzamento Di terra Lo sa bene Il periodo Che deve passare Dalla semina Alla raccolta È Spesso Lungo Diverse settimane Talvolta mesi Quindi Gesù Ci dice anzitutto Sospendete il giudizio Aspettate E poi Una volta che I frutti Compaiono Sulla pianta Analizzateli Con molta attenzione E cosa significano I frutti I frutti Indicano Sia le opere Di queste persone Così come I loro effetti Gli effetti Delle opere E Gesù Ci dà Dei principi Il signore Afferma che Un albero Buono Che fuor Dal simbolismo Indica Un'anima Innestata In Dio Non può Dare Frutti Cattivi Così come Un albero Cattivo Ed etimologicamente In greco Leggiamo Un albero Marcio Non può Dare Frutti Buoni E anche qui È interessante Che etimologicamente In greco Leggiamo Frutti Belli Nel senso proprio Di belli A vedersi Eppure A questo punto Quando leggiamo Questo Questo metodo Indicato Da Gesù Dobbiamo Porci qualche Interrogativo Possiamo notare Una stranezza E lo notano Anche i padri Della chiesa Per esempio San Girolamo Commentando Proprio Questo passo Si fa Una Una Giusta domanda Una lecita domanda Si pone Perché Leggiamo Nella scrittura Che Mosè Che sicuramente Possiamo considerare Come un albero Buono Peccò Nei pressi Dell'acqua Della contraddizione Oppure San Pietro Durante la passione Rinnegò Cristo Ben tre volte Oppure Il suocero Di Mosè Che non credeva Nel Dio Di Israele E quindi Possiamo Paragonarlo A un albero Cattivo Diede a Mosè Un consiglio Buono Allora Com'è possibile Se Gesù Ci dice Che un albero Buono Produce Solo Frutti Buoni E un albero Cattivo Produce Solo Frutti Cattivi Come mai Nella vita Di tutti I giorni Notiamo Che talvolta Chi è Buono Compie Delle Gravi Nefandezze E chi Invece È Cattivo O comunque Crede in cose Gravemente Sbagliate Può compiere Cose Buone Come si spiega Questa apparente Contradizione Tra l'insegnamento Di Gesù E la vita Quotidiana Ma anche La filosofia E la logica Proprio come Discipline Ci insegnano Che da ciò Che è vero E buono Possono Seguire Soltanto cose Altrettanto Vere E buone E in questo La filosofia Dà Diciamo così Ragione A Gesù Per quanto Riguarda La prima Parte Cioè Dal fatto Che da alberi Buoni Seguono Solo Frutti Buoni Però La logica Dice anche Che da cose False E cattive Possono Seguire Sia cose Cattive Sia cose Buone E in questo Senso La logica La filosofia Sembrano Smentire L'insegnamento Di Gesù E se vogliamo Questo in fondo È il segreto Della provvidenza Che sa Trarre il bene Anche dal male E che sa scrivere Anche sulle righe Storte Come si dice Popolarmente Per capire Allora Il senso Delle parole Di Gesù Di questo Insegnamento Del Signore Dobbiamo capire Che Gesù Non sta parlando In senso generico Ma sta parlando Di frutti Ben precisi Di frutti Ben precisi Di particolari Conseguenze Che solo Un animo buono Cioè Ripieno Della grazia Di Dio Può produrre In effetti San Paolo Ci avvisa Chiaramente E l'abbiamo Ascoltato Proprio Nell'epistola Proclamata Proprio Durante La messa Di oggi Durante La liturgia Di questa Domenica Un tratto Dalla lettera Ai romani Capitolo 6 San Paolo Ci avvisa Come infatti Avete messo Le vostre membra A servizio Dell'impurità E dell'iniquità A scopo Di malizia Così ora Offrite Le vostre membra Per servire Alla giustizia A scopo Di santificazione Infatti Quando eravate Schiavi del peccato Non potevate Servire Alla giustizia Allora I frutti Di cui ci parla Gesù Sono i frutti Di cui ci parla San Paolo E il quale Non a caso Usa proprio La stessa parola La parola frutto Infatti al capitolo Infatti al capitolo 5 Dalla lettera Di San Paolo Apostolo Ai Galati Leggiamo Frutto dello spirito E la carità La gioia La pace La pazienza La benignità La bontà La longanimità La mansuetudine La fedeltà La modestia La continenza La castità Questi sono i frutti Di cui parla Gesù E che solo Un vero profeta Cioè Chi parla davvero Per conto di Dio Perché è ripieno Dello spirito santo Manifesta Un falso profeta Non può Produrre Questi frutti Che sono i frutti Dello spirito E San Paolo Nella stessa lettera Ci elenca I frutti cattivi Con cui possiamo Riconoscere Sicuramente I falsi profeti Poco prima Nello stesso capitolo 5 Della lettera Ai Galati San Paolo scrive Si riconoscono Facilmente Le opere Della carne Ed è interessante L'avverbio Che usa qui San Paolo Si riconoscono Facilmente Cioè Più facilmente Delle opere buone Dei frutti buoni E quali sono Queste opere Della carne Sono La fornicazione L'impurità L'impudicizia La lussuria Quindi I veri profeti Di Dio I veri santi Non vivono Seguendo Gli impulsi Più bassi Dell'anima Ma poi Chiama Come opere Della carne Anche azioni Anche Vizi Che apparentemente Con la carne Sembrano non avere Nulla a che fare E cioè L'idolatria I benefici Le inimicizie Le contese Le gelosie Le lire Le risse Le discordie Le sette Le invidie Gli omicidi Le ubriachezze Le gozzoviglie Ed altre simili cose Scrive San Paolo Riguardo Alle quali Vi avverto Come vi ho già Avvertiti Che chi fa Tali cose Non Conseguirà Il regno Di Dio Sono parole Molto Dure Ma anche Molto attuali Noi Sul canale Youtube Di fede e cultura Lo vediamo Molto spesso Persone Che aderiscono A sette Che sono nate Di recente In seguito A degli oggettivi Problemi Nella chiesa Notiamo Che sono persone Davvero Che usano Un linguaggio Verbale Molto Violento Molto Molto Duro Molto Aggressivo Eppure Qui San Paolo Ecco Ci dice Quali sono Questi frutti Cattivi Con il quale Facilmente Possiamo riconoscere Che queste persone Seguono Un falso profeta O falsi Profeti Abbiamo sentito Che le inimicizie Le ire Le risse Le discordie Le sette Sono Tra questi frutti Cattivi Con il quale Gesù ci insegna A riconoscere I falsi profeti Che purtroppo Non conducono Verso il regno Di Dio Ma verso il regno Del maligno Allora Questi sono I frutti buoni Questi sono I frutti cattivi Di cui ci parla Il signore Non è possibile Che un falso profeta Manifesti I frutti buoni Di cui ci parla L'apostolo Paolo Perché non c'è Lo spirito santo Nei falsi profeti Allora Per distinguere I profeti Per discernere Basterà Analizzare La persona Qualunque persona Che dichiara Di parlare Per conto Di Dio In base In rapporto A questi frutti Se manca Se manca anche Uno solo Di questi frutti Solitamente Mancano anche Tutti gli altri E quando manca Uno o più Di questi frutti Ecco che abbiamo La prova La dimostrazione Che questo presunto Profeta Non parla Per conto Di Dio Ma per conto Del proprio ego E quindi Per conto Di Satana Io vi invito Ad acquistare Come sempre Il messale festivo Tradizionale Sul morum pontificum Sul nostro sito www.fedecultura.com Visitate Il nostro sito Anche Per vedere Il nostro catalogo Il nostro ricchissimo catalogo E vi ricordo di sostenere Il nostro apostolato In difesa Della bellezza Della cultura Della fede cattolica Acquistando possibilmente Direttamente Dal nostro e-commerce E non Dai grandi centri Di distribuzione Non vogliamo fare qui I nomi Potete facilmente Intuire da voi E' l'unico modo Con cui potrete sostenere In maniera consistente Il nostro apostolato Della bellezza cristiana Grazie Come sempre Per la vostra attenzione Trovate in descrizione Anche Le informazioni Per fare Eventualmente Una donazione Secondo il vostro Buon cuore Per sostenerci In questo periodo Davvero Difficile E rimanete Aggiornati Sulle nostre Prossime iniziative Iscrivendovi Sul nostro Canale Youtube E ci vediamo Per un prossimo Appuntamento Sempre qui Sul canale Youtube Di Fede E cultura Grazie E buona serata A tutti voi E buon inizio Di settimana Buon proseguimento Questa estate Non dimenticare Che non è solo Il corpo Ad avere bisogno Di riposo E di svago Ma anche E soprattutto La nostra mente E il nostro cuore Sede E cultura Ti propone 26 titoli A prezzo Ribassato Un'offerta Valida Fino all'ultimo Di agosto Per permetterti Di portare Tantissimi Titoli Di saggistica E narrativa Sotto l'ombrellore Approfitta ora Dell'offerta estiva 2023 Visita il nostro sito www.fedecultura.com E clicca su Scopri di più Sul primo banner Che trovi In home page Buona estate Con fede E cultura Baby you give me I am fine